Comunque è di uno stiloso impressionante ragazzi, cioè è proprio bello, ok? È un figo sto King, mi piace un sacco E mi piace soprattutto tu perché... Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash of Clans Oh, ce l'abbiamo fatta, sì, che bello Sì, perché siamo tornati anche con la connessione E per chi non lo sapesse, nell'ultimi sei giorni io sono stato senza internet Ma cosa vuoi che serve la connessione a internet a uno che fa lo streamer e lo youtuber, è un cacchio? Mi sono già ripromesso di non annoiarvi a video con quella che è la spiegazione di cosa mi è successo Ne parleremo poi con calma oggi in live ragazzi Ma non solo perché oggi vorrei fare, se ovviamente gli astri sono allineati ed è possibile, non lo vorrei dire trovo forte Due video, questo infatti lo sto in realtà registrando prima, ok? Però non penso che riuscivo a farlo uscire in tempo appunto E quindi automaticamente mi troverò il giorno in cui voi state guardando questo video ad averne due pronti E quindi, se tutto va bene, vi faccio uscire un video ancora questo pomeriggio Beh, allora, cosa stiamo aspettando? Cominciamo perché già la miniatura urlava a gran voce Nuova skin Agosto sarà un gran mese, non solo perché ad agosto sono nato io il mio compleanno 7 agosto Segnate, 7 agosto Ma anche perché ovviamente agosto è il mese in cui è nato Clash of Clans ragazzi Che già l'anno scorso, visto che l'anno scorso c'erano già le skin Cioè, è già passato così tanto tempo dall'introduzione delle skin su Clash of Clans Ok E beh, l'anno scorso avevano introdotto una skin molto carina, ve la faccio rivedere Eccoci qua sul nostro iPadino Come sempre vi ricordo che siamo sulla versione sviluppatore Quindi una versione che viene data solamente per nel Supercell Per mostrare in anteprima le novità del prossimo aggiornamento Ragazzi, giusto un anno fa veniva introdotto Qua abbiamo come sempre i nostri reali tutti belli in fila Proprio pronti per essere esaminati Ragazzoni, il gran sorvegliante party O meglio festaiolo, ok? Che è questo gran sorvegliante Che è lei che se la abbala con la cassa e il microfono Insomma, molto fresh Questa skin aveva qua al collo Una sorta appunto di ciondolo di colana Con un 7 all'interno Perché l'anno scorso Clash of Clans compieva 7 anni Non indovinerete mai quest'anno quanti anni compie Clash of Clans Sì, sono tornato Sono tornato anche a fare il simpaticone Come vedete Ragazzi, ovviamente per l'ottavo anno Di, insomma, di Clash of Clans Viene introdotta La skin del barbaro Ok? Io ovviamente faccio tutto questo discorso qua Poi in realtà so benissimo che ve l'ho messo in miniatura Ma in miniatura vi ho messo solo un piccolo dettaglio Che secondo me è bellissimo I suoi occhiali, eh? Stile Beatles O meglio, stile John Lennon Non tutti i Beatles John Lennon, scusate E ve la faccio vedere subito Guardatela un po' Sbam, ragazzi Comunque, è di uno stiloso impressionante, ragazzi Cioè, è proprio bello Ok? È un figo sto King Mi piace un sacco E, ehm... Mi piace soprattutto tu perché Va a collocarsi come secondo tassellino Eh... del pacchetto festaiolo Ok? Quindi adesso abbiamo sia il Gran Sorvegliante Sia il King, ragazzi E, ehm... Seppur questa sia una skin che esce molto da Le skin cattive che abbiamo Negli altri... Negli altri mesi genericamente Mi piace un sacco perché È... Ha questo stile un po' Un po' divertente Ma a me piace Insomma, è soggettivo ovviamente Ragazzi, qua lo vediamo ovviamente Mentre dorme subito Mentre dorme il King ovviamente E... Continua a suonare la chitarra Perché mentre dorme c'è proprio un picco nervoso Ormai che continua a suonare E io già qui, ragazzi, vi direi Fermi Per il King Che pure mentre dorme Suona la chitarra Sganciate un pollicione in su Un bel mi piace Presto qui che continua a suonare la chitarra Ma stai dormendo Dormi tranquillo No, suona la chitarra lo stesso Sapete che canzone suona? Ve lo dico io Praticamente suona una canzone che fa Quando scioppi il King Quando scioppi il pass Ricordati sempre di usare il codice ferre Non fa rima Ma infatti è una canzone che ha fatto il King È un barbaro Ragazzi Impostazioni Altre impostazioni Scolete fino in fondo E inserite il codice ferre Oppure molto più semplicemente Usate il link che vi lascio nella descrizione di questo video Rapidissimo Ragazzi lo usate appunto Prima di scioppare il pass E potete supportare il canale In maniera insomma Semplicissima E soprattutto Senza nessuno sforzo Quindi mi raccomando Continuate a supportare il canale Perché date sempre un aiuto grandissimo Domanda che sicuramente in tanti faranno Ma al momento ancora non ci sono novità Riguarda gli scenari Al momento attuale non ci sono altri scenari Ok Quindi io sono il primo Che spera appunto in un nuovo scenario Ma al momento almeno Supercell non ce li vuole spoilerare Ok Non si sa nulla Però se non fosse chiaro Supercell che se ne ascolta Ripeto Ci speriamo Ci speriamo Quindi insomma Anche se il pacchetto è un po' incompleto Andiamo a selezionare anche il gran sorvegliante festaiolo E quantomeno mettiamoli vicini Insomma che appunto facciano festa un po' insieme Magari per far festa Svegliatevi prima di tutto Eccoli Facciamo così Eccoli Che si mettono a suonare la chitarra Uno c'ha la sua radio in mano E vedi che Vanno ritmi diversi Ma hanno comunque la loro sintonia Comunque il King ovviamente Quando è sveglio Suona la chitarra Vorrei ben dire E se lo piugiamo Guardate un po' Ciao ragazzi Ciao ragazzi Rock and roll proprio Bellissimo Cioè guardate che roba È una libidine È una libidine Ma tanto di cosa stiamo parlando Raga Allora Lo vogliamo provare O no Cioè stiamo qua a cingischiare Ragazzi Vi diamo un pochettino Com'è in azione Ascoltiamo effetti sonori eventuali Signori Deppetto sonoro c'è Aspettate No Basta Basta Io me ne vado Ma io mi dissocio Allora spieghiamo un attimo Queste cose Perché poi giustamente La gente dice Ferre È matto Allora Risposta è sì Comunque Però Il discorso è molto più semplice Io sono sempre molto contento Del fatto che Clash of Clans Più va avanti Con le skin Più cerca comunque sia di migliorarle Cioè Non è che fa semplicemente la skin Che è un cambio estetico E basta Ma La skin che esce oggi È molto più avanti rispetto alla skin Che appunto È uscita la prima volta Perché Ha Armi personalizzate Colpi In questo caso personalizzati Perché proprio ci spacca La La chitarra O l'ascia Vedete un po' voi che cosa è quella roba Su Appunto Il target E Ha degli effetti sonori Sul placement E Sull'utilizzo della ulti Quindi un cambio Su Gli effetti sonori Io la chiamo ulti Ma sapete che oramai C'ho questa sindrome Di Brawl Stars E francamente Può arrivare quasi a toccare I livelli di cura Che ci sono Sulla regina guerriera Piccola premessa Anche qui Per chi non lo sapesse La regina guerriera Ragazzi È la skin L'unica skin Di Clash of Clans Che se non sbaglio Costa 10 Costava Quando si poteva prendere 10 euro Non vorrei dire una cavolata Era una cifra del genere Comunque è il doppio rispetto a un pass intero Però effettivamente Ha quei dettagli in più Che dalle skin normali Non si trovavano Invece addirittura Questa skin qua Va quasi a A toccare Quel livello lì Di dettaglio E Mi piace veramente un sacco Poi vabbè Quando Quando fa rock and roll così Ma basta Questa cara è mia skin È la mia skin È selezionata subito Appena la sblocco Signori Se siete quegli utenti Che magari non shoppano Tutti quanti i pass Questo secondo me È uno di quei pass Da prendere Uno perché appunto Essendo quello di agosto È il pass anniversario Se vi volete regalare Anche per dire Quel pass annuale Pigliatevi questo Ragazzi Soprattutto se avete preso Il gran sorvegliante Quello appunto Col microfono Cioè basta ragazzi Cosa vogliamo dire Io concludo Facendovi vedere Insieme Questa coppiata vincente Dai Cioè andiamo ad attaccare Anche qualcuno Così alla buona Tanto io attacco Questi villaggi qua Con due reali Cosa vuoi che faccio Niente infatti Li guardo E scoppio subito Però almeno Ecco guardate qua Cioè ragazzi C'è l'orchestra Praticamente Mentre questi qua Se le danno In santa ragione Magari attiviamo Anche l'abita del king Ecco che Ecco magari Da una piccola mano Lui tanto Fa tutti i suoi effetti Non si capisce niente Il livello 75 Spawna 40.000 barbari Ragazzi È qualcosa Veramente di fantastico Cioè io Io Prende proprio La chitarra E sbam Lo spara su E oltretutto Non tira neanche il pugno Sapete che il king normale Alterna pugno Colpo di spada Questo qua Va solo di spada Sì sì ragazzi Va solo di chitarra Vabbè non è spada Va solo di chitarra 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 Sì sì Non tira Il pugno Non lo tira più Non si sporca le mani Anche quella Se vogliamo Una particolarità Però insomma Ragazzi Questo era Era il Il king Festaiolo Io lo chiamerei più King rocchettaro Penso che questo pass Meriti Ragazzi fatemi sapere la vostra Qua sotto nei commenti E noi ci vediamo come sempre Alla prossima Un saluto da tutti E mi raccomando Oggi pomeriggio Secondo video Un bacio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.